Nel mio percorso letterario come Aurora Cantini, poetessa e scrittrice dell'altopiano Selvino Aviatico, ho raggiunto vari momenti significativi perché è più di 52-53 anni che scrivo e questa settimana è la settimana del ritorno alla vita contadina delle nostre montagne perché ci sono due anniversari. Innanzitutto il primo è il quindicesimo anniversario dall'uscita del libro di narrativa proprio dedicato alla vita contadina lassù dove si toccava il cielo pubblicato nel 2009 con la casa editrice Villa di Seriane. Ma poi proprio in questi giorni c'è un anniversario particolare, triste, commovente che riguarda il borgo che probabilmente anche voi tutti in qualche maniera conoscete o che avete avuto occasione di scoprire, di ascoltare, di sentire, predale o pradale come è scritto nei documenti depositati nei musei vaticani. Posto sotto Ama sul crinale lungo la valle Valgua vicino al torrente Albina sopra Albino praticamente e che è scomparso e dico questo perché nel 1964, quindi 60 anni fa, proprio in questi giorni partiva l'ultima famiglia delle numerose, più di 60 persone che nel corso dei secoli, parlo ancora prima dell'anno 1000, abitavano e popolavano questo borgo di cui oggi ci sono solo ruderi. Quindi lo faccio attraverso due libri, lassù dove si toccava il cielo e l'ultimo libro uscito che ho pubblicato, La bambina azzurra, questa storia di una bambina zingara, rom, sorda dalla nascita che nei racconti degli anziani di predale, negli decenni passati, quindi intorno al 1920-1930 è transitata a predale. Ma ho dedicato a questi due anniversari una settimana. Iniziamo oggi con la mostra della vita contadina che raccoglie gli oggetti del passato perché attraverso questi oggetti io ho potuto poi narrare la vita contadina nel libro uscito nel 2009. Tutti oggetti che hanno a che fare con le nostre storie, che raccontano episodi di vita quotidiana che narrerò ai visitatori e molti di essi riguardano i bambini perché un po' il clou del mio percorso letterario sono i bambini, i protagonisti, la loro infanzia di ogni tempo e di ogni luogo. terminerà questa mostra che è aperta ogni giorno dalle 14 alle 19 venerdì sera 9 agosto con una serata davvero molto ricca, la sala civica di Aviatico, quando io racconterò il borgo scomparso di predale attraverso la bambina azzurra con le sue storie di inclusione ma anche la storia del borgo, come è andato a morire, come è avvenuto lo spopolamento, sempre con la voce dei bambini. Avrò ospiti speciali, una ragazza con la sua danza, col suo papà, una mia ex alunna, il pittore di Gandino Barzizza, Luciano Nodari che racconterà le difficoltà ancora oggi dei bambini vittime di bullismo perché la bambina azzurra non ha ricevuto un'accoglienza come dire a braccia aperte, era stata vista come una strega, come una bambina particolare, strana, poi non parlando era stata esclusa all'inizio e avrò anche il poeta originario di Albino che oggi abita a Bergamo, Sergio Moioli, che porterà proprio attraverso le musiche e le poesie la sua testimonianza per quanto riguarda l'Unicef. Infine alcuni rappresentanti del ENSE, ENSE, ente nazionale sordi che ha sede a Torre Boldone a cui appunto è destinato il libro La bambina azzurra, quindi racconteranno come i bambini sordi ancora oggi devono seguire un percorso, devono essere aiutati, le famiglie supportate e accudite.